Sabato 11 giugno all'Anfiteatro della Musica di Riposto andrà in scena la solidarietà con il progetto Save Naima. L'iniziativa promossa dalla Proloco di Riposto e dalle associazioni delle missioni con il patrocinio del Comune Marinaro sostiene la piccola Naima. Naima, 9 anni, di bula in Africa, è affetta dalla sindrome congenita da bande amniotiche, con gravi malformazioni agli arti e non riesce a deambulare. Grazie alla solidarietà di tutti la bambina potrà essere sottoposta a delicati interventi chirurgici in Spagna. Io personalmente ho preso il messaggio lanciato da Matteo Rizzo che sarebbe colui il quale spesso e volentieri va in missione e nell'ultima missione ha avuto l'incontro con questa bambina dove appunto non riusciva ad andare via se non pensando di andare a fare qualcosa per lei. Proprio per la situazione in cui la bambina si trova. Il mio apporto è stato ed è diciamo abbastanza notevole lo sforzo che noi facciamo perché dobbiamo raccimulare dei fondi per questa bimba. La bambina partirà dalla Guinea-Bissau e quindi arriverà a Valencia dove c'è un'equipe medica che sta aspettando per fare questo intervento e quindi ci servono soldini per abbracciare tutto questo discorso. Io non ho fatto altro che disturbare sotto certi aspetti degli amici i quali hanno risposto ben volentieri a questo annuncio dove daranno appunto il loro apporto alla serata che è stata appunto decisa per l'11 giugno. Come si evince dal cartellone i nomi sono di tutto rispetto, molto solidali, molto sensibili, persone veramente che hanno cercato di aiutarci ad organizzare il tutto proprio per la riuscita di questa bella serata. Molte le personalità del mondo dello spettacolo e dell'arte che si esibiranno gratuitamente per questa serata di beneficenza con ingresso ad offerta. In calendario il prossimo 11 giugno a riposto. Franco Battiato, Luga Madonia, Marianna Cappellani, Bruno Torrisi, Gilberto Edonia, Giovanna Criscuolo, Nini Spina, Fabio Abate, Giulia Maria Fiume, e l'orchestra del Terzo Istituto Comprensivo di Giarre, Neil Garden, Lautari, Francesco Foti, Loredana Scalia e Daniel Zappa vi aspettano numerosi. Sarà una serata speriamo di festa, ci sono tutti i presupposti per fare una bellissima serata musicale e non solo. Gli ospiti sono tutti di prestigio e quindi non è soltanto beneficenza ma voi vi divertite e divertendovi fate una cosa buona, un'opera buona. Aiutare Naima è un gesto che assume un significato in questo momento storico in cui l'Africa ha realmente bisogno, non è solo Naima. Molti danno delle battute tipo aiutiamoli a casa loro. Ecco, il nostro è un gesto simbolico che è anche pratico perché per fortuna questo dottore si è proposto gratuitamente di operarla. Quindi cerchiamo di essere in tanti, di aiutarla in tanti, venite, vi divertirete e così lanceremo anche un messaggio che con poco si può fare tanto. Grazie anche a Michele Giusa che ha voluto coinvolgere me e Bruno in questa manifestazione, in questo evento purtroppo. Gli eventi di solito sono belli, in questo caso noi speriamo che sia un bel evento e facciamo ovviamente leva soprattutto sulla sensibilità non solo dei ripostesi. Perché la situazione di Naima non è una situazione semplice, verrà detto nel corso della serata anche da alcuni medici qual è la situazione su cosa si andrà a lavorare. Naima ha avuto la fortuna di incontrare gente che la vuole aiutare, una fortuna che purtroppo non tutti i bambini hanno. Quindi io voglio sperare che sarete veramente in tanti. Come vedete nel manifesto c'è scritto un biglietto minimo di 5 euro. Minimo significa che se volete donare 10 o 15 è tutto santo e benedetto. Perché andrà veramente ad aiutare una giusta causa. Quindi nessuno, voglio sottolineare che siamo tutti qua per questa causa, nessuno prenderà un solo centesimo dell'incasso. Andrà tutto devoluto in beneficenza. Quindi vi aspettiamo veramente in tantissimi, con tanta bella musica, con tanto intrattenimento, tanta riflessione. E quindi sabato 11 mi raccomando tutti al centro musicale di Riposto.